Gerardo Antelmo, uno dei candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative del comune di Cicerale, nel maggio del 2018 in un'iniziativa pubblica a Cicerale prese l'impegno di lanciare un progetto per recuperare le terre abbandonate a causa dello spopolamento e dall'offerta di lavoro giudicata migliore dalle nuove generazioni. Dal suo profilo Facebook ha annunciato che il prossimo 16 marzo tornerà su quella stessa piazza per presentare il primo grande risultato di quel progetto. Ho incontrato e definito un accordo con un'importante imprenditrice elvetica di origine di Berna che ha deciso di investire in agricoltura cicerale. Acquisterà un terreno già definito e contrattato e avvierà una propria piccola azienda agricola. Per far che cosa? Per produrre fichi, dop del Cilento per produrre olio extravergine d'oliva e le ortive e poi curerà e la stessa la distribuzione su tutto il territorio svizzero. Questo è il primo punto di un programma importante di internazionalizzazione dell'agricoltura di Cicerale. Da un lato farò in modo che imprenditori stranieri vengano a investire sul nostro territorio, dall'altro stimolerò i cittadini di Cicerale nel rimettere in cultura i propri terreni e produrre i prodotti che sono un vero e proprio tesoro. Bene, ci vedremo tutti il 16 marzo in piazza dove avverrà la stipula del rogito notarile con un notaio italiano.